talmente potente che era soprannominato bazooka artefice seme campioni della generazione di fenomeni di imprese memorabili la nazionale modena l'amore per il volo e il passato il lust ed un presente vivo tra passioni come la cucina e appunto la palla a volo buon compleanno luca cantagalli eroe azzurro che regalo vorrei a 55 anni ma sicuramente quello di poter festeggiare il prossimo magari torna una grande tavolata con gli amici con la famiglia e potersi abbracciare protagonista di tante vittorie sicuramente mi sento orgoglioso ovviamente e anche fortunato è stato un percorso molto lungo fatto di grandi grandi vittorie ma anche di sconfitte cocenti che ancora non lasciato il segno cos'era il successo per luca bazooka ma in realtà non l'ho mai seguito è sempre stata una conseguenza di quello che ho fatto nella nella mia carriera e sicuramente qualche volta ne ho usufruito dei pregi e dei vantaggi ma certamente non l'ho mai seguito e modena la grande protagonista della della mia vita perché ci ho giocato per vent'anni sono stati vent'anni stupendi meravigliosi fatti di grandi vittorie grandi incontri grandi emozioni e tuttora ci ci lavoro dire è la mia famiglia è la mia famiglia